La sorella del personal trainer ha detto la sua sulle pagine del settimanale di più, raccontano il difficile momento che sta affrontando l'uomo. Nella chiacchieratissima separazione Totti Blasi non mancano di certo i colpi di scena. Dopo l'intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera, si è tornato a parlare dell'uomo con cui la riavrebbe tradito il calciatore. Cristian Jovino, questo il nome del presunto amante, 40 anni, di professione personal trainer, che già nei mesi scorsi era stato accostato al nome della conduttrice romana. Punto da lì è impazzato il gossip, tanto che lo stesso Jovino, che ha sempre mantenuto un basso profilo, si è visto costretto a diffondere un comunicato in cui riporta il suo punto di vista. Il personal trainer ha smentito ogni coinvolgimento nella vicenda, asserendo che Hilaria è solo un'amica. Punto le parole di Veronica Jovino. Ciò nonostante non si è placato il turbino di malelingue e illazioni intorno al 40enne. Una forte attenzione mediatica che spaventa l'uomo. Tanto che a sua difesa nella pagina del settimanale di più, è intervenuta la sorella Veronica. La donna rivela come il fratello al momento si senta nell'occhio del ciclone, Cristiano mi ha detto, Veronica, non so che dirti, sono davvero provato. Soffro parecchio la situazione che si è creata perché mi sento bersagliato e lo sai che non me lo merito. Roma è piena di matti e andare in giro è diventato pericoloso per me, si legge sul magazine di gossip. Non vive più. Stando alle parole di Veronica, Cristiano è intimorito, tanto da essersi rifugiato all'estero, da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Larry, mio fratello ha paura di andare in giro in Italia, è tornato per pochi giorni e poi, visto quello che stava accadendo intorno al suo nome, è ripartito. Punto. A me Cristiano non ha confermato nulla, mi ha solo detto che per questa storia che lo ha coinvolto è provato. Non vive più. Ripercussioni a livello lavorativo non ne ha avute. Anzi, finire al centro di una storia del genere gli ha fatto un po' di pubblicità. È a livello personale che sta soffrendo. A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tanto meno a lui. Soprattutto perché è una persona per bene, un grande lavoratore. Da un po' non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all'estero.